bella ragazzi e benvenuti nel mio canale di kurre 93 oggi faremo una partitina a modern warfare 3 è da un sacco che non toccavo questo gioco e mi sa proprio che ci fosse una bella infetto perché è stata la malità che ho apprezzato di più questo gioco essendo uguale agli altri allora ragazzi andiamo su trova partita standard no non standard elenco community infetto vediamo un pochettino modern warfare 3 non lo tocca da un bel po speriamo bene questa modalità mi ha toccato sempre mozzi fuori all'idea fatti abbiamo trovato subito coltello vs striker bellissimo scusate per le cuffiette bruttissime non si possono vedere ma dovrà devo ritirare ancora le altre cuffie che mi sopra è grande quella è un pochettino più dolce che mi sentiremo nell'audio non vorrei avere l'infetto dietro ma non me ne ho portato eccoli lì eccoli lì no cazzo me l'ho subisaccato andiamo a 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 b nin Cosa avvoltiamo ragazzi Cosa avvoltiamo Ok ci siamo Di nuovo coltello Cotto striker Vediamo un pochettino Cosa possiamo risolvere Se riusciamo a fare un buon punteggio Dai Subito mission Dai Ohia queste cuffiette Speriamo di non essere il più buon fatto Dai dai Ai trent'anni Andiamo Face to face face to face Contro un avversario Eccolo qui Eccolo qui Mamma mia Dove sei Oh Mamma mia E' qui in giro Oh 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 Si cazzo Si su camera Aiuto 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 nooo coltellino del cazzo mamma mia sono qui dai si te l'ho fottuto stavanzalo potrebbero essere raga dove potrebbero mai essere ok bastardi ecco ragazzi nooo non ho fregato dai nooo qui a mano trova oh no è ancora l'ultimo nooo nooo anche allora 10 171 secondo punteggio migliore dai non è ancora l'ultimo non è ancora l'ultimo andiamo altri venti minuti per far partire la partita per far partire la partita del gioco di parole andiamo dai dai no il type che schifo mamma mia una stazione in cui non ne conosco ragazzi sinceramente se l'avessero messa anche su sotto la vittoria è dichiosa la vittoria è dichiosa l'avessero l'avessero non 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 no mi piace ancora di meno Lada dai quel cazzo non viene qui e lo voglio uccidere troppo dai un assaggio di type mmm 1 ma secondo voi ragazzi si è un'altra parte dite che mi uccidono proviamo mi sono già alato ragazzi mi sono veramente spaventato ok non andiamo più ragazzi non andiamoci più mi preoccupato ok 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 voi dai ragazzi per il tetro ok ok un giro qui vicino ragazzi è qui vicino silenzio di tomba tomba cazzo dove come ha fatto a sopravvivere troppo lo si impari tranquillo tranquillo relax uuuh che cosa ti ho fatto testa di uovo cosa ti ho fatto così impari ah mi son già erato vedi un po' tu ah c'hai il titan davvero non c'hai il fucile lo striker dai mu accumulo un sacco di incidenti di morti per niente uuuh nooo e toglieti dalle palle ragazzi miei uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima ciao ragazzi uuuuh 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 uuuuh